Inizia una nuova settimana ma inizia anche un nuovo mese sui mercati e quindi ci sono un sacco di cose che dobbiamo andare a guardare soprattutto per quanto riguarda i livelli mensili di Bitcoin e tutte quelle che sono le news anche impattanti per il mese di aprile, un mese delicato secondo me perché veniamo da tre mesi di long, quindi tre mesi verdi, non si vedevano da un sacco di tempo e Bitcoin ha recuperato anche un po' del minus che abbiamo visto proprio nello scorso anno. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video di recap tutto quello che c'è da vedere per quanto riguarda l'inizio del mese di aprile, le news importanti, i giorni importanti, già vi anticipo saranno la prossima settimana dopo Pasqua e qualche dato nuovo 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 di zecca che è appena uscito tra i quali questo è il dato più importante ragazzi, la mossa dell'OPEC nella giornata di oggi che in pratica taglia la produzione dei barili e fa schizzare il petrolio, nuova mossa che può impattare sull'inflazione come sono cambiate le percezioni degli istituzionali, lo vediamo in questo video tutto subito dopo il lancio della moneta, vediamo il lancio della moneta, questa volta lo facciamo, lancio la moneta per il mese di aprile, non per la giornata di oggi vediamo che cosa fa e vediamo un po' ragazzi come gira allora la cosa bella di questa moneta ragazzi è che in effetti è strana diciamo no, a volte ci becca a volte no, speriamo che in questo caso il lancio della moneta non sia adeguatamente corretto perché non è uscito un bel lancio, allora mossa dell'OPEC ragazzi che taglia la produzione dei barili di petrolio insieme a Russia, insieme a tutti i paesi degli Emirati Uniti insomma ovviamente petrolio diciamo su Milano i titoli petroliferi salgono come sempre insomma avviene in queste cose andiamo a vedere però che cosa fa il petrolio in generale che poi è una indicazione anche un po' di quello che potrebbe essere l'impatto inflazionistico di una cosa del genere che però è già vi anticipo secondo me minimal ma bisogna vederlo nell'ottica dei prossimi tre mesi eccolo qui il grafico ragazzi del prezzo del petrolio su time frame settimanali, ve lo faccio vedere anche sul telly che magari è più evidente guardate l'app della candela appena aperta, un gap up abbastanza rilevante dovuto proprio allo shock della produzione che i paesi dell'OPEC hanno individuato quindi più 5 per quanto riguarda il prezzo del petrolio, come potrebbe impattare questa cosa relativamente alla questione inflazione? allora dai massimi di giugno 2022 e marzo 2022 quindi questa zona di massimo sul future del petrolio grezzo c'è stata una gamba al ribasso abbastanza evidente, questo vi ripeto sono grafici di natura settimanale qui vedete la questione legata alla pandemia che ovviamente mandò poi il prezzo del petrolio in negativo per la questione legata alla scorta dei barili eccetera il petrolio può avere invertito questo trend che era iniziato lo scorso anno da un punto di vista di struttura e di analisi dei cicli quindi anche qui di solito sulle commodities sono anche abbastanza precisi in effetti siamo su un minimo molto rilevante ragazzi perché è un minimo che o chiude un ciclo annuale sul petrolio oppure insomma potrebbe essere stato chiuso qui ma l'impatto lo vedremo solo esclusivamente dal superamento di questo livello quindi se il petrolio supererà gli 83 dollari al barile è stata fatta una close qui in questo punto di un nuovo annuale quindi una gamba rialzista in effetti potrebbe avvenire ma solo al superamento di questo livello 83 dollari al barile se avviene una cosa del genere aspettiamoci un po' il peggio e quindi un nuovo impatto inflazionistico per quanto riguarda anche il prezzo del petrolio ora io credo che l'OPEC non voglia una cosa del genere ma sia soltanto ovviamente un blocco alla riduzione del prezzo quello che è avvenuto in questi ultimi mesi fermo restando che il prezzo precedente alla questione del covid era una fase vedete di equilibrio dove il prezzo del petrolio sta da una decina d'anni quindi decina d'anni che è proprio questa zona qui ragazzi quindi 80 dollari al barile 80 dollari al barile è un po' lo spartiacque se l'OPEC vede un prezzo che può scendere un po' più giù taglia la produzione quindi l'idea generale del petrolio non è quella di impattare sull'inflazione non è quello di creare uno shock probabilmente petrolifero ma è quello di farlo stare all'interno di una fascia di prezzo quindi ok l'analisi ciclica ok l'analisi tecnica però a meno di questioni gravi quindi incongruenze diplomatiche diciamo così secondo me la questione dell'OPEC si risolve semplicemente con un prezzo di equilibrio intorno agli 80 dollari e non dovrebbe avere un grande impatto sulla questione dell'inflazione andiamo a vedere però nella settimana di questa settimana ma anche a livello mensile intanto io mi ho messo tutti quelli che sono i dati del calendario economico per il mese di aprile per individuare quelle che sono le date più interessanti da andare a monitorare in sostanza il giorno più interessante è sempre mercoledì 12 di aprile non questa settimana quindi l'altra perché usciranno i dati sul tasso di inflazione negli Stati Uniti dati che a questa volta sono previsti uguali allo scorso dato ragazzi quindi 6% vedete come resistiva questo tasso di inflazione molto di più di quello che probabilmente si pensava è ancora molto alto e non stenta a scendere certo siamo vicini ormai alla questione della parità tra tasso di inflazione e tasso di interesse da Fed che riporta il valore di spread all'uno che in sostanza è un valore di equilibrio però questo è un dato che è una giornata che andrebbe assolutamente vista per quanto riguarda invece questa settimana dati importanti sono quelle del giovedì 6 aprile per la richiesta dei sussidi di disoccupazione poi c'è la Pasqua quindi insomma ci sarà un lungo weekend perché la Pasqua e i mercati sono chiusi molti giorni anche ai mercati americani quindi dalla venerdì ci sarà sabato domenica e lunedì quindi un weekend super lungo di chiusura dei mercati chi sa che faranno le cripto visto che saranno sole solette poi abbiamo anche i dati relativi alla tasso di inflazione europeo che però qui mi riporta addirittura un rialzo notevole non so ragazzi se questo indice è giusto lo aggiorneremo poi man mano che insomma andremo avanti con il mese passiamo a vedere anche un aggiornamento di quello che sono i dati relativi al prossimo FONC che alzerà i tassi di interesse o no cioè fra 30 giorni quello di maggio ragazzi come si è spostato nell'arco di questa settimana la percentuale che prima prevedeva qui un 60% e qui un 40 adesso si è invertito quindi 60% rialzo ancora dei tassi un po' quello che vi avevo accennato secondo me la Fed continuerà il rialzo dei tassi ancora una volta questa mossa dell'OPEC sicuramente ha impattato anche su questo dato e gli operatori istituzionali sono convinti che comunque i tassi di interesse verranno ulteriormente incrementati anche fra un mesetto c'è da dire che quindi i prezzi attuali delle cripto prezzi attuali di bitcoin rialzo attuali di bitcoin già prevede un rialzo dei tassi dello 0,25 che sicuramente la Fed deciderà di insomma portare avanti ma non di più quindi è difficilissimo che ci sia un tasso più alto di questo quindi a oggi il prezzo di bitcoin ragazzi è già inclusivo di questi dati sul tasso di inflazione quindi secondo me il mese di aprile a meno di shock legati a qualcosa che può succedere appunto da un punto di vista geopolitico quindi sul petrolio e quant'altro non cambierà molto il dato economico la strada che il mercato già sta facendo di suo c'è da dire che abbiamo dei dati un po' contrastanti per quanto riguarda la questione legata alla Nasdaq ora ci sposiamo sui grafici e vediamo quello che sono i grafici di natura mensile per prepararci appunto al mese di aprile mentre l'anisi ciclica del momentum attuale di bitcoin quella più breve la facciamo nel video di mercoledì allora intanto vi faccio vedere quelli che sono i dati di Nasdaq Nasdaq ha breccato la sua area di resistenza più importante e è andata a fare un nuovo massimo ora ragazzi non abbiamo una conferma ufficiale da parte dei prezzi dell'inizio di un nuovo ciclo annuale il 13 ottobre per quanto riguarda Nasdaq 100 ma il tempo che ha speso al di sopra di questo minimo è veramente molto alto perciò ragazzi da qui all'80% 90% è iniziato un nuovo annuale per Nasdaq ormai è difficile che il mercato a meno di questioni proprio gravissime facciano una cosa del genere insomma devono essere cose gravi guerre, pandemie nuove insomma molto difficile però teoricamente solo il superamento di questo livello poi lo indica come una conferma ufficiale che a quel punto però non serve assolutamente a nulla visto che il mercato è già salito moltissimo la struttura invece dei cicli trimestrali di Nasdaq è significativa perché il ciclo trimestrale di Nasdaq è già in una buona fase di up sono passati 21 giorni considerando che più o meno dura 70-80 giorni ragazzi qui avremo una fase di metà quindi è anche possibile che per questi primi giorni di aprile il mercato tenti una strada di riflessione barra respiro magari non proprio oggi domani però i primi giorni su Nasdaq di aprile la prima decada la prima quindicina di aprile potrebbero essere riflessivi proprio perché il mercato potrebbe andare a chiudere il ciclo mensile sottostante e questo potrebbe anche impattare proprio su Bitcoin che anche lui ha il ciclo mensile ma di questo ne parliamo poi mercoledì però dal punto di vista di price sulla grafico mensile andiamo a guardare quelli che sono stati gli sviluppi proprio di questi mesi intanto mese ad alta volatilità è stato gennaio poi bassa volatilità è stato febbraio marzo altissima volatilità seppur abbiamo fatto solo un 23% di up il mercato ha fatto una shadow estremamente pronunciata proprio nel mese di marzo quando è andata a chiudere il ciclo trimestrale di Bitcoin e questo ha impattato sulla volatilità che è stata poi alla fine tra minimo e massimo 49% quindi teoricamente una volatilità più alta dello stesso mese di gennaio 49% che è stato ampiamente facile questa volta ve lo dico in maniera molto chiara da sfruttare perché il mercato è sceso nella prima parte del mese e quando il mercato scende nella prima parte del mese è più facile creare delle strategie che prendano questi buy the dip tanto è vero insomma che in accadene abbiamo proprio sfruttato questo mese con dei dati e delle performance notevoli poi tra le altre cose nei prossimi video ragazzi vi faccio vedere anche le performance di queste strategie perché più o meno potrete anche sfruttarle proprio da questi video che facciamo magari all'inizio del mese perché sono estremamente interessanti allora dove stiamo da un punto di vista mensile ragazzi sembra che bitcoin non ne voglia sapere di andare a scendere intanto questi sono trend ad ascensore al momento delle fasi ribassiste su questa candela di ritracciamento del rialzo di marzo possono essere impattanti fino a dei livelli non eccessivamente bassi ragazzi quindi è vero che c'è da fare un pullback qui a 25.000 dollari ma io come vi dicevo sono molto restio sul fatto che il mercato possa andare in pullback a 25.000 perché ragazzi perché da un punto di ingresso molto semplice e anche molto favorevole a chi vuole entrare se il mercato vuole continuare a salire difficilmente da un punto di ingresso così semplice a chi è rimasto fuori ma bensì lo schiaffeggio lo lascia fuori i mercati sono insomma cattivelli su queste cose non vi danno punti di ingresso semplici bisogna essere preparati prima per prendere questi trend perciò il fatto che il mercato possa riandare a fare un pullback nel mese di aprile a 25 mi suonerebbe un po' strano certo lo andremo comunque a valutare dovesse accadere questa cosa ma io avrei molta paura cioè se il mercato scende di nuovo a 25 l'idea che forse i massimi dell'anno 2023 siano già stati fatti un po' inizia a girarmi in testa se non sarà così come spero ovviamente il mercato anche nel mese di aprile potrebbe cincischiare proprio nella prima decade come vi dicevo per andare a creare la struttura di un po' di ritracciamento appunto di questa candela ma non mi aspetto grandi cose ragazzi perché anche nella giornata di oggi stesso è andato a fare 27,6 mi posso aspettare un ritracciamento fino a 27,26 e 5 quindi questa zona qui e ci potrebbe anche stare ma poi sostanzialmente se noi dovessimo prendere la via del rialzo verso dopo la prima decata di aprile il mercato spingerà nel tentativo proprio di andare a breccare i massimi del scorso mese dei massimi di marzo perché questo ragazzi perché siamo anche nella fase hyper up del ciclo annuale di bitcoin e se fa un ciclo regolare potrebbe spingere molto anche nella fine di aprile primi di maggio poi da lì la questione si complica ci sono dei target interessanti che potremmo andare a raggiungere proprio in quest'anno anche fuori dalle nostre aspettative se questi trend dovessero verificarsi e li andremo ovviamente a valutare però poi insomma ragazzi negli ultimi 20 dopo i prossimi 20 giorni bisogna iniziare ad andare coi predi di piombo su questa fase di alzista allora questa zona qui se è breccata quindi questi massimi intanto vi faccio vedere che non sono solo i massimi a in questo caso i bit stamp e mi indica 29,3 comunque più o meno 29,3 sono 29,2 sono i massimi anche su altri exchange però non è soltanto la questione del massimo quanto la close del mese ragazzi che 28,4 cioè il mercato potrebbe rompere tranquillamente questo livello di chiusura ed estendere la sua fase di alzista ora se fa una cosa del genere e non ci dà nessun asciato al ribasso il rilevante il raggiungimento del target di 32 è abbastanza semplice lo so che sembra strano dire questa cosa siamo solo al 3 di aprile quindi secondo me questa settimana deve un po' passare però se dovesse iniziare a prendere la via del rialzo ragazzi il raggiungimento di 32 è abbastanza fattibile in questo mese qualora il il mercato poi decida di prendere questa strada sarà da monitorare esattamente perché la possibilità di raggiungere i massimi dell'anno ad aprile c'è così come aprile o i primi di maggio perciò poi da lì come vi dicevo va tutto monitorato con trailing stop e tutto il resto per il momento non ci sono cambi radicali delle situazioni di holding e di posizioni aperte per il medio lungo periodo lungo intendo comunque un anno il raggiungimento di questo livello sarebbe poi un pull back di della o un pull up di della zona precedente che aveva tenuto banco prima del crash di progetto luna e di tutto quello che è avvenuto cioè quella che poi ha indicato al 100% l'inizio del bear market che comunque già da qua era intuitivo però da qui è stato poi confermato da un punto di vista tecnico quindi il raggiungimento di questo livello ci sta anche come una fase di ritracciamento e il pericolo dov'è che ha raggiunto questo livello il mercato inizia a cincischiare facendo poi una seconda parte dell'anno debole e lì i ribassisti quindi gli orsi potrebbero magari tentare le loro carte quindi lì dobbiamo stare attenti c'è un altro dato che volevo farvi vedere per il video di oggi cioè l'intersezione delle due medie le mie due medie che sono a 6 mesi a 12 mesi quindi semestrale e media dell'annuale si stanno incrociando indicando conferma ufficiale dell'inizio del nuovo ciclo annuale anche dal punto di vista di media e su questo non c'è problema ma indicando anche un altro dato che voglio farvi vedere proprio alla fine di questo video perché ragazzi perché tutte le volte che è avvenuto questo incrocio tranne un caso che però è un caso anomalo bitcoin ha iniziato una bull run seconda conferma ufficiale dopo quella che abbiamo già visto nel video famoso dove vi avevo fatto vedere che il rialzo di sopra di quella media particolare poi indicava tutte le volte una bull run così è stato almeno al momento è stato poi straconfermato quel segnale qui abbiamo un altro segnale cioè l'incrocio di queste due medie e insomma difficilmente queste due medie poi rincrociano a ribasso dopo poco tempo quindi quando c'è appunto questa fase vedete solo in questo caso è stato fatto poi un incrocio ma è dovuto a questo mese un mese anomalo totalmente perché è il mese della pandemia ragazzi questo è marzo 2020 considerando che una cosa del genere è difficile che riavvenga questo è un dato hotliers da un punto di vista statistico il mercato probabilmente potrebbe continuare questa fase ed appoggiarsi magari alle sue medie successivamente secondo me questo è un dato fortemente rialzista che stiamo vedendo ma vi faccio vedere l'ultima cosa veramente interessante cioè l'estensione la distanza che Bitcoin ha avuto tra il massimo del precedente ciclo del 2019 che sarebbe il primo annuale del nuovo quadriennale cioè il ciclo dell'albing che abbiamo visto nel 2019 è stato un rialzo come distanza dalla sua media annuale di massimo 55-60 punti questo ci dice ragazzi che dagli attuali prezzi Bitcoin potrebbe salire addirittura in questa fascia di prezzo qui cioè 47-51 mila dollari solo in questo ciclo annuale un po' una cosa del genere spiazzerebbe totalmente anche quelle che non ho le mie stesse analisi all'inizio dell'anno mi importa poco perché tanto io sono un trend follower quindi una volta che entro nel mercato ci resto fino a quando il mercato non mi dà un segnale di inversione però questo è un dato che statisticamente va confermato va non ignorato ragazzi anche perché parliamoci chiaro c'è una forte disaffezione al mercato delle cripto soprattutto dai retail e dalle persone poco formate che sono rimaste scottate dai crash di Luna e dai crash di FTX e tutto il resto quello che è avvenuto nel 2022 ma soprattutto moltissimi hanno preso di malumore un po' il mercato il mondo delle cripto e questo è un dato che si sposta alla perfezione proprio con l'inizio di una nuova burranna in silenzio giù di lì che nessuno insomma va a vedere ora questi sono dati di natura statistica e come sapete lasciano il tempo che trovano perché si parla di eventi passati però un po' il pallino ce lo mette d'altro canto ragazzi io stesso ho aggiornato i miei livelli di target anche per il 2023 superata la fascia dei 32 il mercato cambia radicalmente target e va proprio in bolla a quel punto non è più il ritracciamento del bear market ma diventa un nuovo bull run che poi magari farà il suo escursus perché comunque durerebbe tantissimi anni ragazzi quindi non è che può salire e basta però va valutata una cosa del genere va bene fatemi sapere anche voi nel 2023 secondo voi i target price di bitcoin sono stati raggiunti sui 28 29 mila dollari c'è possibilità di fare app superiori e quali sono i target price che secondo voi bitcoin potrebbe in effetti raggiungere proprio nel 2023 confrontiamoci un po' buon inizio settimana ciao a tutti